Sabato 17 luglio un evento aperto al pubblico, si presenta anche una gamma di nuovi prodotti, ci sarà anche un incontro di pugilato qua fuori, un bellissimo evento, siamo a metà luglio, un'estate, la gente sta continuando a vaccinarsi, comunque anche l'apertura al pubblico è sintomo di ripartenza, anche questo? Certo, assolutamente, questo qua è perché anni a dieta facevamo sempre qualche incontro con i nostri clienti, ci si organizzava sempre anche l'incontro di box, adesso è un paio d'anni che non si sta facendo più niente, quindi ci siamo riproposti a fare i nostri eventi dove riproponiamo anche dei nuovi modelli, nuovi prodotti che stiamo sviluppando adesso negli ultimi tempi. Anche affluenza di gente, un'apertura al pubblico per quanto riguarda la visione dei prodotti e poi comunque la parte commerciale? Sì, per la parte commerciale, anche per la presentazione dei nuovi prodotti come dicevo, farci conoscere sempre meglio di quello che facciamo noi. Comunque la sua è un'azienda radicata nel territorio di Vallefoglia che è un territorio sempre più in espansione in questi ultimi anni? Sì, siamo in espansione anche nei momenti più difficili di adesso, si può dire, stiamo lavorando molto bene con i nostri prodotti reclinabili, i prodotti che stanno andando adesso e stiamo proponendo sempre novità maggiori anche nel campo sanitario. Com'è stato affrontare questo anno e quasi in mezzo di pandemia anche con il rapporto con i clienti che solitamente venivano qua? Ma i rapporti che vengono qua con i clienti fortunatamente abbiamo dei buoni rapporti con la nostra clientela, con i nostri prodotti. È chiaro che questi ultimi periodi non sono molto felici però comunque si sta lavorando e l'affluenza ce l'abbiamo. Come dimostrazione lo vediamo alle sue spalle la gente che sta visionando i suoi prodotti? Sì, come possiamo vedere di prodotti inambiantanti per tutte le tasche, per tutti i gusti e fortunatamente è un prodotto che facciamo noi internamente quindi possiamo anche personalizzare il prodotto a seconda persona che magari ha qualche esigenza più particolare. Una bella giornata che ripeterà prima possibile? Sì, ma noi lo stiamo facendo tutti gli anni questa cosa qua, a parte questi due anni che è successo quello che è successo. Le nostre aziende sono una vallata del fare, la vallata della genialità, della capacità di combattere delle battaglie contro vento. La box è una delle caratteristiche di Montecchio, di questa vallata, nella storia, è un modo anche di dare messaggi che si vuole combattere, combattere con lealtà, combattere per vincere le sfide. In un momento in cui, dopo questo periodo difficile di un anno e passa, siamo in una fase di rinascita, di ripresa, di combattività per affermare le nostre economie in una vallata molto importante, molto vivace. E questa azienda testimonia la vivacità e direi anche di tante altre aziende, per fortuna che vanno bene. Un messaggio anche da parte delle titolari dell'azienda, vedere tanta gente oggi qua vuol dire che questa pandemia, si spera che ce la stiamo lasciando alle spalle, continuare sempre a vaccinarsi come lei dice sempre, però c'è un'ottima affluenza. Ma allora, questa è una battaglia dura, bisogna vincerla, bisogna mettere a K.O. il Covid, vincere la sfida e riprendere a lavorare a pieno ritmo nella dimensione internazionale, dove la competizione è sempre più forte. Occorre fare i vaccini, tutti fare i vaccini, senza se e senza ma, tenere le mascherine, mantenere le distanze finché non è finita K.O. questo Covid.